Musica Buongiorno, ben ritrovati, benvenuti, siamo dagli studi di Fano TV per la consueta rassegna stampa del mattino inizieremo questa parte di giornata sfogliando i quotidiani edizione locale e vediamo quali sono i principali articoli che ci propongono oggi però guardiamo anche le previsioni del tempo e come sempre anche il santo del giorno che oggi è San Giuseppe da Copertino perché giovedì 18 settembre il sole è sorto alle 6.50 e tramonterà alle 19.14 e allora sul tempo c'è da dire che sulle nostre teste qui nelle Marche passerà una perturbazione proveniente da Ovest e quindi il cielo sarà un po' nuvoloso ma vediamo nel particolare anche le previsioni per i prossimi giorni iniziamo da oggi giovedì 18 il cielo è come vedete a doppia nuvoletta sulla cartina quindi parzialmente nuvoloso in mattinata e la nuvolosità aumenterà nel corso delle ore e forse ci sono anche precipitazioni sparse nella giornata localmente anche carattere di rovescio nelle zone interne quindi maggior intensità di pioggia all'interno però per domani il cielo anche qui all'inizio sarà prevalentemente nuvoloso con qualche però schiarita poi nel proseguo della mattinata non si escludono brevi piovaschi però anche qui sui rilievi le temperature salgono e vediamo cosa ci aspetta sabato vedete più o meno anche dalla simbologia sulla cartina il cielo è sempre parzialmente e regolarmente nuvoloso addensamenti nelle zone interne e anche qui non si escludono precipitazioni per il weekend guardiamo le temperature scorriamo velocemente oggi 14 22 per domani uguale 16 addittura 24 come abbiamo visto in aumento e quindi manteniamo ancora temperature sopra i 20 gradi come massima quindi le temperature sono gradevoli però insomma il cielo è nuvoloso entriamo nel dettaglio delle notizie partiamo con il resto del carlino per un'iniziativa che si terrà il 4 ottobre sabato un flash mob ormai sappiamo tutti che cos'è il flash mob vediamo qui di che cosa si tratta il carlino titola segna il vento davanti al duomo clamorosa dimostrazione delle mamme fanesi per sostenere l'allattamento naturale la promotrice di questa iniziativa è giulia battisti una marottese al grido io allato alla luce del sole si è fatta promotrice di questo di questa iniziativa che sarà presente anche in altre piazze italiane quindi simultaneamente alle 10.30 sabato mattina nel sagrato della cattedrale del duomo si terrà questo flash mob per promuovere l'allattamento naturale e dice giulia battisti un gesto dimostrativo è d'accordo anche il parroche e anche il vescovo ha detto sì e poi nella segreteria nazionale del pd c'è una fanese si chiama francesca puglisi e una senatrice e quindi in carico a livello nazionale si dovrebbe avere la delega per la scuola settore di cui si occupa da anni sono onorata di poter dare il mio contributo al piano mille giorni rimaniamo sulle pagine che riguardano Fano perché in risposta all'articolo di ieri sul fatto di tagliare l'erba al campus intitolato a Falcone e Borsellino dalla segretaria della CGL Ricci risponde il preside chiamiamolo così alla vecchia maniera del liceo scientifico e lui dice la cosa non ci riguarda però perché io e i bidelli abbiamo tagliato da soli prendendoci anche qualche rischio l'erba davanti al liceo scientifico Torelli quindi nel riquadro c'è la foto che come si vede riguarda però l'entrata del Nolfi e tutto il davanti hanno messo mano al portafoglio hanno fatto 50-50 con la provincia e hanno tagliato da soli l'erba perché dice il preside appunto del Torelli non c'ha una lira la provincia e quindi abbiamo chiamato più volte ma gli uffici ci hanno detto di non poter mandare nessuno e quindi hanno preso l'iniziativa risponde il preside del Nolfi Flavio Grilli dice abbiamo ricevuto delle assicurazioni da parte della provincia che in questa settimana risolveranno anche il problema davanti al liceo classico e quindi speriamo che il decoro regni anche in quella zona di città domani per quanto riguarda l'outlet a Marotta che dovrebbe venire c'è una via di conclusione il consiglio decide domani sull'outlet si va verso il via libera sulla variante del piano regolatore ma i commercianti sono allarmati il villaggio Grandi Firme dovrebbe sorgere proprio di fronte al casello dell'autostrada rimaniamo sul carlino però andiamo a vedere che cosa ci comunicano dal Pesaro vediamo la questione delle bombe scaricate nel 44 dai tedeschi davanti alle coste della nostra provincia perché riguardano sia Pesaro che anche Fano, parte di Fano e Gabice ieri c'è stato questo incontro e Lelli, il professore di Bologna, dà anche le coordinate uscendo dal porto si gira a 45 gradi, insomma dà veramente le indicazioni precise quindi il dibattito sugli ordini gettati in mare dai nazisti almeno si verifichi dove sono in maniera precisa e quindi è stato presentato un esposto sulle bombe in mare chiesto alla procura di intervenire e non sono in questi anni affatto nulla e allora ci si chiede ma la Germania può pagare i danni e può essere chiamata in causa e vedremo un pochettino che cosa risponderanno ancora buone notizie sul fronte della sicurezza per gli abitanti di Piazzale Cinelli e Piazzale Carducci a Pesaro, da sabato compariranno le telecamere che saranno accese sono tre in tutto, Piazzale Carducci a Pesaro è un grande contenitore di auto è un parcheggio che serve tutto il centro però è frequentato da abusivi quindi che verranno monitorati con queste telecamere l'assessore della Dora dice è un problema che andava risolto in tutto il sistema costa circa 40.000 euro e poi anche l'astronave, l'Adriatica Arena a Pesaro avrà finalmente il riscaldamento ha giudicato un appalto per la produzione di calore negli edifici comunali ancora dalle pagine di Pesaro la stagione estiva lunga promossa dal sindaco però sembra che arranchi un po' perché non sta dando i risultati sperati quindi è un po' una stagione allungata ma forse anacquata la stagione lunga arranca spiagge più che dimezzate i bagnini ripongono via l'attrezzatura nella foto abbastanza eloquente la situazione poi c'è stato un errore di stampa dice Belloni, l'assessore, la stradomenica si terrà come previsto il 21 settembre è stato un refuso, c'è stato un misunderstanding sulle date però questa iniziativa si terrà il 21 settembre e quindi vedete sedie vuote, musica alla palla di pomodoro però non va come dovrebbe andare stiamo sperimentando, dice il Comune, anche le fasce orarie dove fare questa iniziativa e ogni critica è ben accetta naturalmente in senso costruttivo per migliorare la cosa cambiamo testata il Corriere Adriatico apriamo con la pagina che riguarda Pesaro e questa notizia che è rimbalzata sulle croniche anche nazionali il killer vuole Lucia come avvocato Lucia Annibali è stupita perché dice io ho già rifiutato la sua difesa a luglio ma pare che questo sia un colpo ad effetto ha il sapore di una boutade crudele perché non a caso è elaborata da un killer scrive il Corriere Adriatico che vuole ottenere grande risonanza mediatica lei domani compie gli anni, 37 anni l'estate dedicata tutta alla promozione del suo libro e quindi auguri a Lucia per i suoi anni e poi al Benelli per gli amanti dei motori delle due ruote di questa storica fabbrica pesarese ci sarà un weekend tutto dedicato una tre giorni al mondo delle moto Benelli quindi gli appassionati possono andare lì e sbizzarrissi, tre giorni di iniziativa e gran finale con un tour aperto alle motociclette però di qualsiasi marca però che costruite entro il 1965 quindi moto storiche Fano per il Corriere Adriatico i vigili urbani sono alle prese con i censimenti due azioni distinte in questi giorni passi carrabili, monitoraggio dei passi carrabili e il monitoraggio dell'amianto quindi vigili urbani focus su passi carrabili e amianto recupero della Tosa per verifiche sui paletti e fiorieri abusive per evitare i parcheggi davanti ai garage Saipem, la sede fanese rimane un rebus parte la mobilitazione del gruppo consigliare del PD e anche qui la stagione nel fanese non è andata meglio che nel pesarese e quindi è stagione negativa per i bagnini ogni pioggia un incubo è pronto a legarsi è Marco Marcantonini che elenca i danni subiti e chiede interventi risolutivi anche qui nelle pagine del Corriere Adriatico la questione dell'outlet prova del 9 in consiglio l'assessore Lucchetti chiede il voto unanime secondo lui una grande occasione per tutta la vallata un'importante tappa nel percorso che porta verso il villaggio delle grandi firme ancora dai quotidiani in edizione locale però cambiamo come sempre affrontiamo il messaggero vediamo come titola estate lunga anche qui titolo in testa sulla stagione allungata ma gli hotel sono chiusi il progetto del comune comunque prosegue per tutto settembre e si appunto per cercare di allungare un po' la stagione Lucia anche qui fotonotizia non sarà il legale del killer dei casalesi lo dichiara appunto lei e il meteorologo ci rassicura il tempo è variabile però sabato ci sarà il sole vi segnalo una cosa interessante per quanto riguarda insomma le bellezze il patrimonio artistico delle nostre città giornate del patrimonio un weekend la città apre gli scrigni dei suoi tesori arte e cultura non solo visite straordinarie ma anche tante iniziative per grandi e per piccini tanti weekend tanti appuntamenti nel weekend ma si apre già da domani la sede di Confindustria intanto si restaura il Balcancino e il Palazzo Ducale questo avviene a Pesaro continuiamo a vedere appunto l'estate lunga ma gli hotel sono già chiusi tante location anche per così festeggiare e coronare il sogno del matrimonio una location abbastanza insolita col mare alle spalle però molto scenografica molto bella e oggi c'è il saluto ad Andrea l'informatico morto nell'incidente nello schianto alle porte di Urbane nel pomeriggio i funerali dell'evento tenne nella chiesa di San Fortunato a Pelio perché era originario di Pelio quindi per quelli che vorranno dargli l'ultimo saluto e spiantati gli organi un gesto molto bello molto nobile che sicuramente sarà utile a tante persone questa è una pagina importante della nostra sanità l'espianto e la donazione degli organi perché ci sono tante persone in lista d'attesa e quindi ogni evento di questo tipo è sicuramente un evento importante per tante persone e poi il sindaco renderemo quel tratto più sicuro e quindi insomma speriamo che non dobbiamo leggere più notizie di questo tipo per quel tratto ultima pagina quella del messaggero di Fano la campionessa dell'Aurora a Zarina dei Media Alina Cabayeva indimenticata ginnasta della squadra locale oggi è diventata la numero uno dell'editoria russa e quindi ha militato in un paio di stagioni nell'Aurora Fano con cui conquistò due scudetti e quindi insomma trampolino di lancio da Fano per la ginnasta russa interquartieri la giunta apre alle modifiche e poi Ricciatti sulle nozze gay dice la legge è in ritardo in Italia le leggi sono in ritardo a riguardo rispetto all'Europa e poi slalom notturno sul ponte del porto canale il porto canale si è dotato di questo nuovo ponte in questa estate però gli automobilisti spostano i panettoni di cemento quei ferma insomma transito che vengono messi appunto per evitare che passino le auto perché ancora non è stata data l'agibilità per il transito automobilistico però loro vogliono passare uguale e spostano i panettoni di cemento a discapito anche però della propria sicurezza bene questa era l'ultima pagina per la rassegna stampa di oggi grazie per essere stati con noi e per aver iniziato la vostra giornata guardando i giornali insieme a noi la rassegna stampa torna domani mattina alle 7.45 puntualissima e questa sera occhio alla notizia alle 20.30 buona giornata a tutti voi grazie a tutti